Non so capire bene la portata sul progettazione culturale Tucur, quindi su questo non vi posso dire, non vi posso dare notizie, secondo me c'è anche tutta una questione di trasparenza importante che deve caratterizzare quel genere di attività, cioè che succede se non raggiungi la cifra che hai stabilito, qual è il tema dei benefit che deve essere in qualche modo riconosciuto, eccetera. Invece mi interessa di più questa slide, cioè le e-network che si possono realizzare all'interno di un progetto. Per esempio, posso realizzare delle collaborazioni culturali, nel senso che se trovo dei soggetti con cui posso condividere alcuni pezzetti dei contenuti, è evidente che posso avere da parte loro una collaborazione e questa collaborazione in un certo senso la posso valorizzare. Per esempio, io potrei avere qualcuno che realizza, dopo quando vi farò vedere un progetto, per esempio vi farò vedere, penso di avercelo, una cosa fatta sul Lago Maggiore. A un certo punto, questa prevedeva sostanzialmente cinque grandi mostre. Siccome a Ortona, a Verbagna ci sono delle iniziative culturali, lì l'idea era quella di inserire le loro iniziative all'interno del programma della mostra. Quindi era una vera e propria collaborazione con queste attività. Però io posso mettere in moto anche, ad esempio, una rete commerciale. Quale potrebbe essere una rete commerciale? Per esempio, io potrei fare un accordo con un gestore di telefonia mobile e fare in modo che attraverso un SMS posso prenotare una cosa. Oppure posso prevendere un biglietto o un titolo. Oppure la rete dei servizi. La rete dei servizi può riguardare il fatto che attraverso il biglietto di un servizio posso avere un'agevolazione su un'attività che sto svolgendo. Più complessa è la rete delle partnership produttive perché qui vuol dire che io sto chiedendo a un soggetto di mettere qualcosa dentro il progetto. Quindi un coproduttore, un cofinanziatore. Naturalmente però dovete sapere che se partecipiamo ad alcuni bandi, ad alcune iniziative, probabilmente lì potrebbe essere indispensabile avere dei cofinanziatori. Naturalmente se la rete delle collaborazioni culturali è uno scambio di intenti e poi uno si mette d'accordo sui dettagli, se la rete dei servizi è quella della parte commerciale, è una logica di reciproco vantaggio, e quindi può essere in qualche modo qualcosa che agevola la controparte oltre te, Nella rete delle partnership produttive o coproduttive bisogna capire molto accuratamente quali sono gli oneri che si dividono, quali sono i benefici che si dividono e se ci sono rischi che devono essere condivisi. Invece andiamo un attimino alla terza fase, quella della pianificazione. Allora, la pianificazione è in qualche modo la programmazione delle cose che devono essere fatte. Ricordatevi che la pianificazione però può avere sia una logica di un piano generale in cui io scrivo le cose che devo fare, do un calendario, più o meno stabilisco quello che mi serve, eccetera. Però io posso anche vedere la pianificazione come la somma di tanti piani di dettaglio. Per esempio, io posso la comunicazione inserirla in un piano generale oppure posso avere un piano di comunicazione autonomo che devo solo raccordare rispetto alle altre azioni. Quali possono essere questi piani specifici? Ma, per esempio, tutti i montaggi, gli allestimenti, le cose possono essere oggetto di una pianificazione dettagliata che poi inserisco in un disegno più ampio. Tutti i piani legati alla logistica, per esempio un listing room. Cos'è un listing room? È la gestione sostanzialmente delle camere d'albergo. Piuttosto che un piano voli o un piano di trasferimenti e posso naturalmente, come dire, trattarli a parte e poi metterli dentro. Un piano di fundraising, cioè dove vado a cercare i soldi, è la stessa logica. Ma soprattutto un piano di comunicazione. Allora, dal punto di vista, diciamo, del lavoro da fare in questa fase, il mio punto di partenza è la VBS che abbiamo visto oggi. Dopodiché io posso questa VBS esploderla in dettagli, diciamo, in azioni più dettagliate e ripartirle per queste pianificazioni un po' più specifiche oppure posso considerare un piano di lavoro più generale. La cosa importante è che l'iter è quella che io prima ricapitolo le azioni, poi le metto in calendario, capisco quali sono le risorse che devo usare e poi stilo, redigo il budget e il piano di tesoreria. Questi sono i passaggi fondamentali. Allora, guardiamo alcune cose. Per esempio... Per esempio, il calendario. Abbiamo cominciato a dire qualche cosa. Abbiamo detto che abbiamo bisogno di formalizzare più o meno questa calendarizzazione. Non torno sulle cose che vi accennavo oggi, mi concentro sul tema calendario. Allora, noi abbiamo bisogno di attribuire alle azioni alcune cose molto precise. Per esempio, quando deve essere svolta quella singola azione rispetto a tutto l'intero calendario? Quanto tempo occorre, quindi quanto dura ogni azione? E poi, quali sono quelle azioni critiche che richiedono più tempo che non è comprimibile? Allora, lo strumento che mi può aiutare da questo punto di vista è sicuramente il già citato diagramma di Gantt, che è questo. Ma ve lo faccio vedere meglio come prodotto da uno dei tanti strumenti di software che si usano. Allora, guardate, il diagramma di Gantt, vediamolo qui, è molto semplice. Ho qui la lista in verticale delle azioni, in orizzontale ho il calendario che lo posso dividere come voglio per giorni, per settimane, per mesi, eccetera. E la razio è che io tiro una linea dal punto di inizio al punto di fine del periodo che mi interessa. Dopodiché io cerco di legare, perché il concetto che vi dicevo oggi è capire esattamente quali sono le sequenze, cioè quali sono quelle azioni che vengono prima di un'altra, per evidenziare quelle azioni che hanno appunto una eventuale criticità, cioè possono durare e devono durare quel tempo. E quindi la loro somma delinea il cammino critico del progetto. Vediamolo meglio qua. Guardate, questo, vedete in verticale cosa ho messo? Ho messo la VBS, quella che oggi avete visto sotto forma di schema logico, adesso l'ho messo in verticale. Gli ho assegnato sostanzialmente anche una sigla, così non devo star sempre a ripetere le cose. dopodiché ho stabilito vedete un calendario e ho assegnato i tempi a ogni azione. Dopodiché ho anche identificato quello che vi dicevo ieri, le pietre miliari, cioè quelle azioni che sono considerate come decisive, sono quelle che fanno fare uno stacco in avanti, significa che abbiamo percorso un certo quantitativo del nostro tragitto. Per esempio guardate la prima il VP1, la curatela, quando è commesso una pietra miliare? Quando ho ritirato tutte le opere. Ok? Cioè quando ho praticamente in questo modo come dire sistemato tutta la parte che riguarda appunto le opere. per esempio un'altra pietra miliare è quando è pronto tutto il setup, tutto il montaggio. Un'altra, questo è interessante, guardate, la pietra miliare nella comunicazione quando è? Quando faccio la conferenza stampa? Perché nella conferenza stampa da allora qualche giorno prima parte il sito web. Ma nel frattempo tutta l'attività di campagna è partita già prima. Mentre invece vedete la pianificazione, la creatività e la produzione e la campagna sono una legata all'altra. Allora per farvi capire il concetto di una di sequenza di azioni di attività critiche eccetera provo a elencarvi immaginate che dovete fare una mailing postale cioè dovete mandare una brochure di una vostra iniziativa a un indirizzario di persone di cui avete un database sul computer cioè gli indirizzi precisiamo che il vostro database è aggiornato che avete soltanto lì sulla scrivania una ventina di nomi di ultime persone che hanno chiesto di essere diciamo iscritte ma solo queste il resto non ci sono morti ammazzati in questo database cioè sono tutti operativi corretti eccetera allora io adesso vi elenco una serie di azioni una di queste azioni è critica pronti? allora caricare gli ultimi venti nomi stampare la brochure stampare le etichette etichettare le buste affrancare imbustare e spedire qual è l'attività critica? mettere le etichette sulle buste dici? no l'indirizzo delle persone potrebbe essere cambiato da un determinato no ma quello tu stampi l'etichetta poi attacchi l'etichetta quello dice che critica quello intendevi? non ho capito io no ok che non le scrivi a mano cos'è critica? l'isabbe allora ripeto caricare gli ultimi venti indirizzi stampare la brochure stampare l'etichetta etichettare le buste affrancare imbustare e spedire qual è la critica? farla arrivare in tempo Valenti pure tu sembri Forrest Gump scusa farla arrivare in tempo allora imbustare dice Federica stampare le brochure dice Elisabetta Agnese è d'accordo con Elisabetta chi offre di più chi offre di meno Paola che sei lì silenziosa e rimugine spedirle accettarsi che è l'ultimi 20 eh? gli ultimi 20 no quelli che vi dicevo gli ultimi 20 i nomi che avete sulla scrivania affrancare allora l'attività critica è stampare la brochure perché non dipende da voi lo fa tipografo ma mentre il tipografo stampa la brochure voi intanto vi caricate i nomi stampate le etichette etichettate le buste vi siete fatti dire la grammatura della brochure quindi potete preaffrancare le buste e quando arrivano imbustate e spedite Elisabetta no la criticità infatti è legata al fatto se tu aspetta eh attento quando parlo di criticità non parlo di criticità di cose inconvenienti che possono io la sto guardando in termini tempi capito eh allora guardate lo faccio vedere con un altro diagramma che si chiama diagramma di Pert che ve lo mostro soltanto per farvelo conoscere ma non lo dovete usare cioè se imparate a usarlo è riuscito a usarlo insomma però è una cosa veramente un po' complicata no? cioè forse nemmeno troppo adatta per noi il Gante sì ma questo no allora vi faccio vedere il diagramma di Pert se Noè si fosse attrezzato del diagramma di Pert per tutta la sua operazione va bene? allora guardate quelle frecce in nero sono il cammino critico del progetto cioè la sequenza delle azioni critiche che sono quelle che richiedono più tempo e non le posso comprimere allora qual è l'obiettivo di Noè? costruire un'arca in sette mesi questo è il suo obiettivo allora guardate quali sono le azioni critiche costruire le ordinate che sono quella cosa dell'arca in quattordici giorni inchiodare il fasciame in altri quattordici verniciare impermeabilizzare sette giorni inchiodare i paioli in quattro giorni costruire le cabine in otto giorni imbarcare gli animali in due giorni ma cosa può fare intanto nel frattempo senza che questo gli impedisca il cammino critico del progetto può costruire i bagli non mi chiedete che so dieci giorni può montare i parapetti in due giorni può tagliare un boccaporti in un giorno inchiodare il ponte in sette giorni e intanto cercare una coppia di ogni specie di animali in venti giorni allora per france per dirti che nel caso che dicevamo prima la spedizione è soggetta a una criticità che è legata per esempio che ne so uno sciopero della posta oppure una inefficienza della posta quindi è una cosa assolutamente come dire che rientra nei rischi nelle circostanze ma da un punto di vista di pianificazione noi dimentichiamo che la posta ha un obbligo di consegna in un arco di giorni preciso che non rispetta mai ma che comunque è preciso quindi io stando al calendario quella roba lì dovrei averla abbastanza sotto controllo la brochure la stampa io posso aver messo in contratto non farò mai un contratto con un tipografo perché sarà tutto come dire diretto ma posso aver stabilito praticamente che si faccia 108 giorni ma quei giorni il tipografo normalmente cosa ti fa ti dice che si prende quei giorni a parte il fatto che non abbiamo detto com'è sta brochure se questa brochure se questo è un flyer è una cosa se è una brochure con un sedicesimo di pagine è un altro se sono più pagine c'è la spilla vuol dire praticamente che questa brochure prevede una come dire chiamano loro composizione una cosa insomma prevede una lavorazione aggiuntiva poi ragazzi si devono asciugare copie se c'è una copertina va incollata quindi lui ti dirà sicuramente tendenzialmente perché non ti vuole imbrogliare ti dirà un certo numero di giorni allora io quei giorni li considero incomprimibili poi cosa succede che magari lui è più bravo e la consegna con qualche giorno di anticipo però io questo da un punto di vista di pianificazione come dire non ne posso tener conto posso avere altre criticità per esempio potrei avere una criticità potrei avere una criticità nel come si chiama nel abbiamo detto carico i nomi stampo l'etichetta ecco potrei avere una criticità come dire in quelle sequenze lì stampare etichette attaccare etichette la francatura la francatura potrebbe non essere corretta cioè potrei avere delle cose ma come dire dal punto di vista della lavorazione se sono attento quella roba lì non mi blocca il cammino di quell'azione diciamo di mailing postale capito? no ma il primo elemento era che tutte queste operazioni le francature le richette ci sono operazioni che fai tu quindi il controllo diretto tu c'erai sì tutto il lavoro di spedizione qualora si tratti è una grande quantità di materiale non hai l'ufficio postale ma nel centro di smistamento non mi ricordo il termine etnico è un centro postale per il proprio e spesso sono le poste che vengono a fare il carico con le loro casse eccetera ma se questo passaggio non avviene ti ritieni carico tu ti prende le portate fisicamente diciamo che in termini di pianificazione scusami in termini di pianificazione se tu come dire prevedi che questo possa verificarsi no? cioè se tu metti in conto questa cosa dovrai in qualche modo calcolare i tempi che sono quelli di chiusura della brochure di consegna al tipografo quindi correzione di bozza cosa devi fare sulle brochure c'hai i loghi degli sponsor devi avere il visto si stampi degli sponsor no? tutte le accettazioni le approvazioni eccetera a questo punto velocizzi quella roba lì in modo che praticamente cerchi di guadagnare qualche giorno rispetto al momento in cui le brochure dovrebbero in teoria essere sulla scrivania delle persone a cui sono destinate capito? scusate vediamo vediamo porca miseria è tardi vediamo un'altra cosa interessante che è la matrice di responsabilità cos'è la matrice di responsabilità? è quella con cui ci si divide le cose che devono essere fatte cioè chi fa che cosa per esempio guardate qua rispetto a un'iniziativa insomma come può essere una rassegna di film una vetrina eccetera noi abbiamo preso tutte le persone dello staff e gli abbiamo dato un ruolo per esempio chi ha la lettera R è responsabile di quell'azione cioè la deve portare a compimento chi ha la lettera A deve approvare chi ha la lettera I deve essere tenuto costantemente informato di come procede quell'azione e chi ha la lettera S deve supportare in questo modo noi abbiamo capito chi fa cosa che non è e non può essere soltanto risolto dal fatto di avere un ruolo perché ci possono essere delle lavorazioni che hanno bisogno di essere imputate e non per esempio il dossier no? il dossier di presentazione del progetto eccetera chi lo prepara allora può darsi che noi stabiliamo perché non è detto che debba farlo il direttore artistico o non possa farlo il responsabile di progetto bisogna che ci intendiamo lo farà uno poi magari in alcuni casi stabiliremo che qualcun altro deve dare un ok deve essere un supervisor guardate qui abbiamo un errore vistoso vistoso ci sono due responsabilità che lo fate esatto che è successo qua? è successo che si sono litigati perché tu questo lavoro lo fai collegialmente e a un certo punto tutte e due vogliono occuparsi del budget e salomonicamente il gruppo per non aver discussioni ha deciso che lo fanno tutti e due che succede? che ogni dettaglio ogni negoziazione dovrà essere discussa cioè non si sa chi è che impegna la spesa Agnese scusate ho interrotto prima che volevi dire? ok scusate vediamo qualche progetto a questo punto vediamo qualche progetto dunque allora vi faccio vedere che abbiamo qua vi faccio vedere allora mi sono occupato di un giochino molto interessante che sta a Cormano a Cormano è un piccolo paese che vicino a Milano è il classico paese tagliato in due dalla ferrovia no? a Cormano a un certo punto un privato ha fatto il più grosso danno che possa fare a un comune gli ha regalato una fabbrica in disuso quindi voi immaginate devo restaurare cosa ci faccio eccetera e quindi a un certo punto ha chiesto io lavoravo in una società di consulenza ha chiesto io ho lavorato per tanti anni soprattutto con gli architetti ha chiesto a noi di immaginare cosa fare di questo luogo allora di questo diciamo questo progetto come vedete ci sono tre documenti il primo documento è un master plan ed è il documento proprio il concept del progetto il secondo documento è un business plan cioè quello che lavora sui numeri il terzo documento è un summary cioè una sintesi vi faccio vedere cominciamo il master plan intanto lo scorriamo veloce più che altro vedete come è scritto come come allora allora vedete del 2006 un indice una premessa cioè come siamo partiti perché ci stiamo occupando di questo quali sono gli obiettivi di questo studio l'approccio che abbiamo seguito per costruire questo studio vedete noi qua già abbiamo un assunto abbiamo pensato che possa diventare un centro per l'infanzia cioè un centro che poi in realtà è stato chiamato B la fabbrica del giocattolo e del del gioco vedete qui avevamo bisogno di capire che cosa fare di questo luogo e come farlo stare in piedi quindi l'equivalente del concept della fattibilità è l'equivalente del sistema diciamo più economico finanziario questo è la metodologia che ho seguito no che è una metodologia tipica di questo genere di studi e questi sono i documenti e questo era il cronoprogramma e il gruppo di lavoro un glossario questa è la genesi cioè le origini come è nato il progetto quindi quali sono state le cose per cui siamo arrivati a ragionare su questo e poi quali sono gli obiettivi primari per esempio a un certo punto abbiamo capito che ci sono delle azioni volte al miglioramento della vita del bambino tenete presente che ci siamo concentrati sui bambini perché Cormano si è autoproclamata città del bambino e della bambina quindi ci sembrava corretto che questo contenitore potesse essere votato a questa vocazione e poi naturalmente valorizzazione del territorio vedete loro Cormano città dei bambini nel 99 avevano fatto questo passo infatti si chiamavano partevano a questo movimento che si chiama le città sostenibili per bambini e bambine dopodiché qual era il programma dell'amministrazione vedete un primo link siamo andati a vedere esattamente cioè la parte politica come si è mossa qual è il collegamento con quello che vogliamo fare le tappe che hanno portato in qualche modo a lavorare intorno a questo progetto e poi abbiamo identificato già tre soggetti che potrebbero essere se adesso vedremo che funzionano i soggetti che potrebbero in qualche modo caratterizzare il futuro di questa nuova struttura il teatro del buratto perché pensiamo di metterci una cosa sullo spettacolo il museo del giocattolo del bambino che sta a Milano che è sfrattato e la biblioteca comunale di Cormano che è una biblioteca soprattutto per l'infanzia una scheda su questi tre soggetti no? vedete? guardate perché layout perché su powerpoint mi permette di fare delle cose molto di sintesi no? di non scrivere pipponi eccetera però ecco allora che abbiamo fatto ieri analisi del contesto come si fa analisi del contesto dove sta Cormano qual è la posizione quanti abitanti ha guardate sto pensando di fare un centro per ragazzi sono andato a vedermi quanti sono quelli tra 0 e 6 anni e quanti tra 7 e 14 qual è il profilo socio-demografico a questo punto della Lombardia perché è chiaro che non è che posso fare riferimento solo su quelli che vivono là mi devo allargare quindi sono andato a prendermi i dati per capire esattamente che cosa vuol dire e che succede nel nord se allargo il mio sguardo e se posso immaginare che lì potrebbero arrivare anche bambini o utenti da altre regioni del nord quali sono i trend perché a questo punto devo capire se questi bambini c'è c'è un problema demografico si scoprirò che c'è un problema demografico se c'è un problema demografico vuol dire che io quei bambini devo farli tornare non basta che passino una volta sola quindi l'offerta non può essere un'offerta statica deve essere un'offerta dinamica le scuole che possono essere degli interlocutori e quindi capire esattamente quante sono come e poi naturalmente capire in generale vedete quali sono i trend dal punto di vista diciamo della rappresentazione grafica poi naturalmente ho scoperto che Cormano rientra in un'area più vasta quindi se devo fare delle strategie di collaborazione devo andare a vedere esattamente quali sono gli altri comuni quali sono più o meno le politiche infatti ho scoperto che c'è un piano strategico di area che quindi forse sarà utile collegarsi trovare delle formule di poi sono andato a vermi il contesto culturale qual è il contesto culturale per esempio i consumi guardate qual è la spesa media mensile di una famiglia per il tempo libero biblioteche ecco qual è la situazione delle biblioteche qual è il rapporto con gli abitanti cosa succede in Lombardia e il teatro visto che sto pensando di metterci anche delle cose teatrali stesso discorso e la parte museale rispetto a questo genere di target dopodiché vado a vedermi l'asset fisico cioè cominciamo a ragionare su questo spazio e quindi guardate vado a vedere esattamente dove sta ubicato quello che vi spiegavo oggi dove si posiziona come sta messo a questo punto questo è il nostro giocattolo classica è un ex cotonificio quello tipico con la non viene il nome come si chiama questo? ciminiera con la ciminiera ok? ecco vedete in che condizioni sta quindi è da recuperare ora noi sappiamo con gli architetti abbiamo visto che per fare le cose che pensiamo non è sufficiente quindi dobbiamo intervenire probabilmente con un rafforzamento dell'infrastruttura questo è il progetto architettonico e questo comincia a essere l'idea che abbiamo questa è la parte finale e guardate cosa abbiamo pensato abbiamo pensato di cioè gli architetti hanno pensato di allungarlo in modo da poter riempire tutte le funzioni che stiamo immaginando questo è rendering vedete queste sono ancora le sezioni e queste sono le planimetrie naturalmente del nuovo progetto quello che verrà realizzato vedete piano primo piano secondo le funzioni per metratura vedete ok a questo punto questa è una cosa molto importante sapete cos'è il benchmarking un confronto allora adesso lo vedete applicato a un progetto allora per il benchmarking noi abbiamo cercato delle strutture che ci ispirassero per questo e quindi abbiamo analizzato di alcune strutture che abbiamo selezionato il sistema di offerta come sono organizzati gli spazi la struttura di gestione dove sono di successo e il marketing mix abbiamo scelto siamo andati a cercarci tutti i musei di giocattoli in Italia e li abbiamo mappati tutti i teatri di ragazzi come il buratto e li abbiamo mappati tutti i centri culturali dell'infanzia che prendono più funzioni e li abbiamo mappati dopodiché le biblioteche abbiamo fatto una considerazione dalla mappatura e poi dalla mappatura ne abbiamo scelti alcuni ne abbiamo scelti due nazionali Genova e Cosenza e uno internazionale Parigi e dopodiché abbiamo costruito come li abbiamo cercati attraverso interviste telefoniche i siti web e i siti naturalmente più istituzionali queste sono schede per ogni caso vedete questa è Cosenza location gli spazi le attività la gestione come come è strutturata la struttura della governance gli indicatori critici di successo no? per esempio quanti visitatori quante presenze medie al giorno collaborazioni con le scuole eccetera e poi il marketing mix cioè il prezzo che cosa hanno come prodotto come fanno promozione e come vendono la distribuzione stessa cosa per Parigi eccola qua la città di Zenfant vedete tutte le loro attività la formula di gestione gli indicatori di successo il marketing mix e poi Genova stessa faccenda a questo punto ragazzi che cosa viene fuori quali sono le evidenze su cui dobbiamo lavorare e quindi le abbiamo messe in come dire in parallelo per cercare di capire che cosa ne vogliamo portare a casa vedete allora profilo strategico come lo vogliamo considerare lo vogliamo considerare un condominio o vogliamo considerarlo un polo e un sistema e quindi abbiamo deciso che per noi l'indicazione di condominio abbiamo detto che è debole e spieghiamo perché è debole mentre invece siamo favorevoli a una logica di polo e di sistema qual era il condominio che ciascuno stava lì dentro e faceva le sue cose invece noi vogliamo che le cose siano tra di loro in qualche maniera collegate a questo punto abbiamo usato la teoria del valore pubblico per supportare questa tesi e abbiamo immaginato che il valore che deve essere espresso da questa struttura deve essere quello che trovate qua valore sociale valore simbolico visibilità valore educativo valore economico ok a questo punto questo è il come dire i vantaggi che pensiamo si possano ottenere nella gestione delle risorse dei risultati dell'offerta eccetera questo è l'architettura del modello sistemico vedete un sistema legittimazione la prospettiva quindi diciamo la capacità di investimento come migliorare la struttura interna e la soddisfazione degli utenti queste sono tutte i link ve li risparmio ecco qua lo vedete qua lo vedete qua a questo punto il nostro centro si posiziona qua dove c'è più sicuramente un modello culturale che un modello principalmente gestionale perché questo sarebbe stato quello condominiale no? cioè avrebbe prevalso l'ottica di gestione rispetto ai contenuti invece noi abbiamo insistito perché fosse principalmente la parte di modello culturale quindi questa è la sintesi risultato del bench però per noi significa molto chiaramente che cosa dobbiamo costruire a questo punto la mission i principi guida cioè quali sono i valori che devono ispirare questa struttura vedete guardate questi sono i principi guida e questi sono i valori delle tre strutture guardate i valori del comune di Cormano vivibilità sicurezza della città solidarietà e quello della fondazione del museo gioco come momento fondamentale interazione tra bambine e balocco e il buratto infanzia momento libero da schemi in cui si crea la propria identità tanto per come dire cercare di costruire dei collegamenti che sono queste frecce tra di loro e questi sono i valori guida che devono ispirare questa struttura e gli abbiamo dato dei punteggi così abbiamo potuto realizzare un grafico a radar questa è la vision di questo polo divenire un riconosciuto e apprezzato spazio culturale di eccellenza per i bambini sul territorio lombardo e più in generale per il nord Italia con un'identità nota a livello nazionale in grado di dare ulteriore visibilità all'identità dei soggetti che ne fanno parte questi sono gli angoli dell'identità ma ve li disparmio questi sono i ruoli della missione cioè la missione significa avere un contenitore che programma e produce facilitare politiche per il mondo dell'infanzia incubare conoscenza e abilitare incontro queste sono le parole chiave perché a un certo punto puoi anche giocare con le parole è una cosa utilissima queste sono le funzioni abilitanti questi sono gli obiettivi che guideranno questa organizzazione e questo è il modello di business vedete no su questo abbiamo costruito per esempio i target sono specializzati non sono generici perché ci stiamo rivolgendo delle cose precise il tipo di promozione è tradizionale perché non possiamo immaginare che quel genere di target utilizzi una promozione innovativa se mi fosse rivolto a un target della vostra età avrei dovuto spingere questa cosa più verso qua sistema di offerta ampia la forbice attività di valore aggiunto medio partnership molto strutturate canali distributivi tradizionali ruolo produttore questo è il bacino d'attrazione vi ricordate ieri la slide che diceva qual è la dimensione del progetto ecco la dimensione del progetto è vastissima stakeholder ve li ricordate questi sono gli stakeholder che abbiamo identificato quindi questo è l'uso di quella matrice che vi ho fatto vedere ieri SWOT forze debolezze opportunità e minacce le strategie to do verso forze e opportunità e quindi come valorizzo i fattori critici di successo le strategie to do verso debolezze e minacce e cioè come disarmo come abbiamo fatto stamattina tutte le debolezze e le minacce questo è il marketing sistema d'offerta vi ricordate l'abbiamo fatto ieri guardate questo è il sistema d'offerta che c'è adesso ma che riguarda i singoli soggetti a casa loro ok questa è l'offerta del museo del giocattolo questa è l'offerta del buratto e questa è l'offerta della biblioteca allora questo dico vabbè questi fanno questo tipo di cose io penso che sia interessante eccetera a questo punto però io voglio li devo integrare quindi devo avere un'offerta che abbia queste caratteristiche qua per cui ecco le funzioni una funzione espositiva una funzione spettacolare un'offerta generale un'offerta biblioteca la gamma che cosa si fa e poi chi se ne deve occupare vado veloce questa è l'offerta accessoria arricchita guardatela forse come contenuti per esempio un'offerta centrale quella core è chiaro che per un museo è l'esposizione della collezione permanente no quella è l'offerta sua principale non sarebbe un museo ma per esempio l'organizzazione di mostre temporanee deve diventare un'offerta centrale o l'ideazione di isole tematiche è chiaro che il teatro del buratto ha produzione di spettacoli ma deve anche fare installazioni e percorsi per gli spettatori piuttosto che eventi multidisciplinari invece guardate l'offerta arricchita l'offerta arricchita del museo del giocattolo potrebbe essere per esempio convegni sull'arte del giocattolo o potrebbero essere laboratori rivolti a bambini per la costruzione dei giocattoli o recupero di materiali no per farvi capire cosa dicevo per integrata e poi questa è l'offerta complementare i servizi no guardaroba le informazioni la biglietteria eccetera queste sono cose molto di marketing questo è il networking quello che avete visto prima queste sono le collaborazioni culturali vedete abbiamo capito più o meno chi potrebbe essere cosa potremmo dare per esempio Rai Educational potrebbe essere una collaborazione culturale per esempio una card sulla rete dei musei provinciali che permette uno scambio di facilitazione sui visitatori questa è la rete delle partnership per esempio la rete dei Children Museum questa è la rete commerciale per esempio il Touring Club e questo è la rete dei servizi da Enel progetto luce alle telecomunicazioni per sms target group chi sono i nostri utenti vedete guardate noi abbiamo identificato quattro fasce bambini accompagnatori appassionati e studiosi e ciascuno ha la sensibilità al prezzo la provenienza l'interesse prevalente il livello di specializzazione e questo invece è tutto il marketing mix che ve lo risparmio vedete questo è il livello di integrazione tra settori ecco guardate qui abbiamo fatto anche delle linee guida per il merchandising per cui che tipo di gamma di oggetti e queste sono le linee guida per la comunicazione quindi lavoro su un brand la struttura del piano di comunicazione gli obiettivi di comunicazione i target della comunicazione le strategie per ogni obiettivo i media e poi i mezzi canali e mezzi e poi abbiamo anche immaginato un modello di ristorazione perché lì ci sarà bisogno anche di fare praticamente vedete abbiamo anche cercato di pensare qual è la filosofia della ristorazione in quel posto lì e poi qui abbiamo immaginato quattro opzioni perché il comune ci aveva chiesto più soluzioni allora questo è un abbiamo non abbiamo tempo voglio solo farvi vedere un summary veloce di evento vediamo questo guardate velocissimamente questo è le grandi mostre sul lago maggiore anche qui c'è tutta una struttura quindi vari documenti questo siamo partiti da un piano di marketing interioriale quindi l'esigenza era come sviluppare un'idea del piano di marketing le necessità individuate e gli obiettivi dello studio il sistema d'offerta per cui la stessa cosa quali sono i ruoli della missione di questo progetto le mostre quali sono vedete erano cinque mostre le location la descrizione di ogni mostra con la location vedete il sistema d'offerta per cui anche qui abbiamo immaginato che l'offerta centrale sia ogni singola mostra e poi ci sia un'attività di animazione per esempio di attività arricchita con animazione e altre iniziative vedete questa è la gamma vernissage eventi speciali aperture straordinarie tour virtuali eccetera stessa cosa sull'attività collaterale basta volevo solo farvi vedere questa è la struttura di gestione di tutto l'evento come l'abbiamo immaginato quindi una struttura temporanea questo è il calendario di programmazione e questo è il fundraising come pensiamo di sostenere vedete pensiamo di fare affidamento su singoli cittadini enti pubblici imprese e organismi no profit dopodiché queste sono le strategie per fare fundraising e quindi i mercati e questi sono gli strumenti questo è il piano di fundraising cioè il calendario e poi voglio farvi vedere questo guardate questa è la sostenibilità cioè dove troviamo i soldi naturalmente tutto questo nel documento specifico è esploso in slide di dettaglio no cioè quali sono le leggi le norme a cui andare a chiedere soldi però vedete noi immaginiamo sostanzialmente che questa rosa qui sia quella che ci permette e gli abbiamo dato dei valori dei numeri ovviamente ipotetici va bene ecco questo è il business plan ricordatevi sempre quando fate un budget non ve l'ho detto di usare il sistema del valore assoluto cioè la cifra ma poi di capire anche quanto pesa in termini percentuali sul totale del budget perché lì può essere molto interessante questo vedete qua guardate guardate cosa cosa pesa molto l'allestimento pesa tanto e pesa tanto l'assicurazione un po' la produzione esecutiva la comunicazione è solo un 15% del totale ok comunque questo costava tutto 5 anni 7 milioni che non è una cifra enorme basta allora le slide che abbiamo usato a lezione di sud право «p!» ma tutte le fa ho